va bene ci siamo ci siamo dovrebbe essersi dovrebbe sentirsi bene e tutto dunque ho fatto un po di allenamenti mi sono andato a prendere un team pole abbastanza forte tranne nell'attacco speciale proprio dove serve che è proprio dove serve e quello è un po un peccato arrivo allora va bene ok ci siamo ufficiali allora mi sono costruito una mezza squadra un po un po così un po particolare timur è assolutamente un prestito perché perché si lui la rana finale palpitò giù no no forse no si chiamava così c'è 31 31 figa quel quattro lì quel quattro lì quel quattro lì mi gira molti coglioni ieri ne avrò presi non so quanti però e mi girano delle balle lui ho visto che c'è colpo basso e lo aveva tanto per tirar giù n e magari anche questa palestra perché il mio obiettivo è riodo ok potrebbe essere zoom esatto sì infatti un un come cazzo si chiamava l'uccello che aveva laccio erboso era molto strano ah giusto non me lo ricordavo più che dovessi fare una mossa del genere ops ovviamente lui non ha un onda shock a caso eh figo se ce l'ha e ovviamente io mi sono tenuto squadra in quello più grammo ah no in realtà quello più forte che ho trovato questo è quanto ci ha fatto un attacco fisico c'è un attacco rapido con due attacchi rapidi un P dove c'ha quasi massacrato con due soli livelli di differenza c'è un attacco rapido con due attacchi rapidi un'attacco rapido con due attacchi si lo so ho visto che è morto ah poveri cazzo ahia chiudiamo giudico io chiudiamo oh il il è il il si ma è molto più veloce no perché visto che c'è anche lui che dice stavo guardando cosa per quanto potesse fare no dio porco pistola acqua ma 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 quindi non ci posso dunque 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 adesso c'è la palestra di tipo normale di laggiù non ci potevo andare ma perché c'è il bosco se no fai un giro strano perché qua devi passare il bosco aspetta un attimo adesso però il bosco è libero ma voglio vedere se riesco andare a prendere olu salve la seconda medaglia ma 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 non è che ci ho parlato perché meno male che ho detto un allenatore la sfido ma noi l'abbiamo già usata qua ma noi l'avevamo già usata ma 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 Cirillo che fortuna va bene vorrei andare a vedere che cosa sono capaci di fare questi qua grazie zio eh lo so qui vicino dalle parti mi troverai qualcuno ferma buongiorno amico pokémon ok però io non volevo devo andare avanti con timbul però vabbè abbiamo sbagliato ok va bene sì dai fammi vedere cosa potete dire a cuore minchia 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 malissimo e ha la lastra pugno però vabbè più è pesante più fa male colpo basso stavo per dire stavo per dire campo basso sì io non ho mica voglia di dunque sfidiamoli un po' sarà un po' dura oi stavo ho visto il più di punto schifo ho visto il più di punto esclavo Perchè proprio lei? Cioè questo qua sta facendo la nostra stessa palestra Eh sì Ah pensavo di no Anche lui è sbagliato io stavo andando qua Va bene va bene vai 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 Non stavo più capendo niente Cominciamo anche con i cani Male Malissimo Fa nemesi Figa qua c'è da tirare su della gente ma la svelta Quello è un po' il problema Figa si cominciano ad usare nemesi a rudo è un bel grosso problema Non c'è un problema Questa palestra Beh almeno è il sito di livello Bene Figa non c'ho voglia di fare degli allenamenti Devote è anche a livello Figa più che altro Perchè 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 potrebbe essere quella però mi stavo pensando di andarmi a ricaricare perché si anche dovrei allenarli così non lo battiamo mai si comincia a buttare fuori quel cane lì quel cane lì è finita comincia a usare nemesi a rudo allora lasciamola stare un attimo voglio andare intanto sfidare un po' di gente ho troppa gente da ti arso ma si dai vai di timbu almeno un po' forte mi sta sul cazzo le navi però prende troppi danni troppi troppi danni prendiamo da tutti se questi allenatori ce l'hanno 17 da figurati il capo palestra siamo una squadra impresentabile c'è ci stende qua è psico tieni il sosso ops e bellium al 20 diventerebbe metang a me non mi dispiace non è che ci mettono troppo tempo sì mi sta sul cazzo anche perdere perda del tempo ad allenarli però sì dai va bene ma è che piuttosto piuttosto di tiro giù anche con metang e di vuota cioè metang poi diventa forte cioè diventa forte poi quanto quanto può essere poi il suo potenziale non lo so ma a questi livelli vuol tirare giù della gente ma il potenziale voglio per diventare una bella macchina a tirare giù della roba perché come come si evolve io mi ricordo che imparava confusione gli metto poi il cucchiaio torto alzo un altro 20% cioè buttolo via no quindi non mi sembra male come idea la rana da figa se voglio il 27 il gerino quindi quindi poi quando arriviamo da Renipoli che possiamo andare di là diamo una piccola una leggera botta un po' tutti da portare di su dopo tutti al 25 il 25 va benissimo tutto il 25 va benissimo poi tornando di qua prendono il bonus perché è come se fossero stati scambiati va bene ho capito vieni qua bambino del cazzo certo ecco questo è già un altro è un po' diverso vuoi più io e qua alleniamo timpoli ho visto che sono saltati dei frame ma ogni tanto lo fa ah è vero che questo qua non ha mossa d'acqua però meno male no vedo che sta tutto andando quindi ma non so perché ogni tanto lo fa non so se ha questo programma che sta male o bene 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 vai su vai su vai su devono essere cioè devono essere tutti il 20 per andare giù mi manca cariodattili che cazzo è eh o se no ci sono loro però tu ma piuttosto per tirarci via la palestra vediamo magari sono anche più veloci di timbo dai però devi prenderlo il nemico adesso ti tiro giù una pedata nel muso god quella madonna ragazzi ma ci mettiamo una vita secondo me ha solo pazienza ah poco l'energia ok voglio vedere se prenderlo può aiutarmi a superare almeno la palestra ok altri frame sentato dove scoppi è forte forte 30 in attacco speciale che avrà solo ed esclusivamente attacchi fisici che fa schifo sono te dove può averlo il versaglio scarabitato via costretto lasciare il posto un altro beh ci sta oh potremmo andare giù pesanti anche così via sta continuando stanno continuando a saltare dei frame girano le palle aspetta un attimo proverò magari toccare qualche impostazione un po' più avanti va bene potremmo anche che casino c'è qui in mezzo basta che cozzo è oh cagare schifo si poi magari è distruttivo è forte magari più avanti adesso mi ricordo che l'avevo usato una volta però è sempre un attaccato per un secondo maggior parte delle volte se ti fanno un attacco con la difesa speciale voglia fare in culo figa figa coi pokemon selvatici non prendi un cazzo certo secondo me te non stai bene dai che ma sì ci sono dei dei frame saltati boh ma non so cosa possa la cosa lo può fare tu sei quello qui in afra non abbiamo nessun modo porca modo però adesso tu mi sciotti alleniamo lui che fai lo sarò lentissimo beh dai già 99 becca bene quanti ne deve fare? 15 però tiravo giù hai rotto il cazzo zio nani sì è una battaglia a colpi di fango dai su muoiti con questa difesa giù ho capito tieni l'occido coglione ci potrebbe anche salvare 197 abbastanza coro attacca al barfi tutte mosse speciali se usate ripetutamente da una più grande aumentano 60 metter via super suono si può fare tanto non lo userò mai vedete già tanto se lo tirò avanti timpul allora zio allora zio qua la situa la risolviamo così addirittura anche il brutto colpo mi è toccato subire non so se è un raddoppio non so se è un raddoppio sì sì a tre devastante diciamo mettiamola giù che così che tre colpi sono devastanti il terzo è devastante allora giù c'è un altro allenatore ma almeno me li alleno almeno riesco a fare la palestra in modo tranquillo se no poi mi tocca sprecare anche delle risorse che non voglio sprecare di soldi non ne stiamo prendendo visto che siamo all'inizio che succede fra no vai via sì anche se figa mi avevi mi avevi dato abbastanza però potresti darmi molti ma non cura le mosse ma perché non curi le mosse no no è vero vai di azione perché modiga aumenta la difesa no godo sì piuttosto lo catturo almeno lo catturo lo catturo Oh, che zio! Vai dentro adesso, testo del cazzo! Basta, ti tiro giù. Non me ne frega niente, fai pure quel cazzo che ne voglia. Dai, fai cagare, dai, vai via. Pesso di merda. Lui, 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 lui va su bene, lui va su bene. Colpo di fango. Dai, porco Dio! Vabbè, che sta cazzo, non è pericoloso, cioè, continua a fare ste robe. Ma scrive a segno anche dopo. Dai, va, muoviti, figa, perché c'è questa roba? Perché pazienza, tutte le volte in carica energia deve... Ci, volevo fare anche un altro attacco. 349. Eccolo lì, 17. Ci sta. Ci metti due anni? Ci metti due anni ma lo tiri giù. Vediamo se... No, figa, se incontri quelli, figa, ne vale anche la pena. Ne vale anche la pena. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Vediamo avanti, vediamo, vediamo. Dipende adesso lui quanto ci mette per tirarli giù. Puttana Dio. Fì, ma è così forte anche negli attacchi speciali. Che già voce, ma secondo te sei fuori. Brutto colpo, buono. Eh, ci va Beldum. Boh, si sono messi a fare il ribaltiro, adesso. Adesso si sono messi a fare sta mossa. Hanno sempre fatto pazienza, focca all'energia? No, adesso ci mettono a fare anche il ribaltiro. Oh, ciò, ciò. È impazzito. Oh, finalmente si è calmato. Lui, brutto Dio. Vai, Panzer, allora. Prenderai te? No, non li prendo. Eh, non è male. Eh, che mi tocca fare sta roba qua un po' di volte, che non ce l'avevo proprio voglia. Ah, da là. ? È un po' di volte. fighe che due coglioni c'era una difesa assurda non potevo prenderlo ma va bene così cioè questi qua lui con due sale di livello credo che sia anche abbastanza continuiamo l'esplorazione ma forse ce n'è magari un altro lì c'è una bocca giù di là intanto la vado a prendere potresti essere pericoloso proviamo a andare di colpo di fango bene quanto prendi bonus esperienza ho già dei bonus colpo del fango porca mado zio che fai oh signora nemesi è assurda vabbè che adesso faceva il doppio perché era morto il suo amico allora vai tim burtì al 17 preferisco mettere il piova avanti il lupo perché tanto beldum lo terremo ma visto che l'abbiamo trovato lo provo anche a catturare il nostro è il 17 no ma se è forte ma perché è un po molto forte negli speciali è quello guarda mi sono dimenticato di dargli la spettro targa no 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 super suono no che è successo fra vai beldum tocca a te strega che gli ha dato beldum la storia non 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 chi se ne frega la difesa la miglior difesa è l'attacco un pochino ho sempre usato attacco 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 e ce ne freghiamo di quello che subiamo fino a lì non è male per fare ovviamente il più ue Yondra è di questo Yondra è di questo eh Rettable Yondra è di quello lì tutti quelli che vogliamo allenare ce li abbiamo scarichi poi contro il conto di T-Pilotta Beldum ci potrebbe stare ma non ha mosse no è un altro proviamo a vedere se tanto adesso non è mai veloce un giro è più veloce di una zebra un giro è più veloce di una zebra un giro è più veloce di un giro Questo qua è il grammo È forte in difesa perché c'ha 17 Quello là che c'ha 4 Sì, no, abbiamo in difesa lo stesso 30 in attacco Andiamo a provare Ma dai, abbiamo allenato Abbiamo portato a casa anche Abbiamo portato a casa anche Un Un temple Un temple abbastanza buono Quindi No, per la palestra adesso uso il mio Anche se volendo Ma non posso tipo selezionarle I miei preferiti No, li metto La gente che serve La gente che serve Sposti in box 3 Lui perché è qui? Perché è qua lui? Mi sono già girati Dal 17 23 6 17 Ah, è questo qua Eh, figa 24 contro Figa 17 22 E 17 in difesa Eh, ma salirà poco la difesa Probabilmente E 17 24 25 26 26 26 27 28 32 33 33 34 33 34 34 36 36 36 38 37 46 nel frattempo prendo il 15 grammo molto però c'è una difesa assurda è quello ha una difesa assurda quindi andiamo così ma un po dai un po abbiamo fatto ah cazzo possiamo far così per renderci la vita un po più semplice devo ricordarmi poi di prenderla su se no poi mi perdo via un oggetto lo so già che succede dove sei ah lastramente dente di drago ma no c'è uno qua in chat qua nel nostro pensatà chi cazzo ha la la seconda l'altra lastra voi avete delle bacche del cazzo swamper non può avercela c'è gelo mai cucchiaio torto becco affilato lastra timore dente di drago sabbia soffice prendi immediatamente sabbia soffice dente di drago occhiali neri ah una cintura sarà ma zio ce le ho tutte e due fra vediamo no vediamo un cazzo no allora come come ci andiamo porca madonna si lo so lo so però volevo sta calma sta calma volevo ma ci sono dei cari di frame questa qua è il 15 figa quell'altro la ce l'aveva il 17 ma si vede che magari figa nemisi è una roba assurda nemisi volevo vedere cosa cosa poteva fare adesso lo metto dentro almeno uno almeno lo prende 212 ci sta è quasi al 17 no aspetta voglio vederti ta toh follia minchia minchia resiste bene minchia si è sciotta c'è nemisi resiste anche bene eh minchia si è sciotta c'è nemisi resiste anche bene eh che è successo perché io mi ricordavo lì non mi ricordavo mai le scale lì sotto mi ricordo così poco di nero ho che magari in nero 2 c'è peccato che non ci hanno messo nero 2 però ma anche argento c'è il suo silver che ora abbiamo fatto 11 e 20 dopo il culo è strungito i denti no mettiti le 15 mi ricordavo io ho messo Vediamo. Watchdog. Eh, era troppo bello. Oh Cristo. Chi gioco stai giocando? La fantasia, eh? Davvero, la fantasia. Godo. Andiamo, andiamo. Non me ne sbatte un cazzo. Porca mado. Lo tiri giù, ah? Lo tiri giù. Non voglio saperne niente. Ah, ma c'è ancora Udino. Pensavo fosse morto. Vabbè, è un fin di vita. Figa, trovare tro... Figa. È stata una bella, bella mossa. Figa nemi... Figa nemesi, ragazzi. Nemesi. Nemesi. The what? È proprio lui. Ottocento. Minchia. Minchia. Perfetto. Perfetto. Molto bene. Ma il pacchetto delle VigorSold... No, cos'erano? Sì, delle cicche di anni fa. Solo fino al 27. Un po' sorgh Cu. Perfetto. Grazie a tutti. Ecco perché serve sempre un tipo lot. Però c'ho tutti i disfatti, zia. Che è successo? Ah, ci sono anche... Lui è il prossimo. C'è anche lui. Oh, va bene. Almeno ogni tanto ci divertiremo. Ok. 11 e mezza sta come... Ma però domani a mezzogiorno ci sono. Assolutamente. Sì, sì, domani a mezzogiorno ci siamo. Non ci sarò la sera tardi. Mezzanotte una. E... E basta. E basta, e basta, e basta. Ah, ce l'ho già tra l'altro... Giusto. Ciao, ciao. Eh, di lì, ci andrai con... Vabbè, era fattibile. Beh, almeno non la prendiamo. Dunque. Fino al 27, hai detto? 89 ore. 100 ore abbiamo finito nero. Sì. Sono... Sono praticamente 20 ore... 20, 40, 60... No. 25, 50, 70... 26 ore, 27 ore... A mappa... A mappa... Sarò stato 84... Sono 89... Sarò stato sì, 84 più o meno... 110 ore abbiamo finito. No, mi fermo perché poi vado avanti troppo. E... E... E niente. Mi fermo, mi fermo. No, 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 mi fermo. Grazie a tutti